ciao aldo di baggio pittore poeta girovago ciao luigi mi sono fatto mi sono fatto un bel bagno in piscina mi sono rilassato di brutto mi sono fatto un bel bagno in piscina mi sono rilassato alla grande adesso sto facendo una mini passeggiata per tutto il costume bagnato e quindi faccio una bel giretto qui questo bellissimo posto qua faccio un bel giro intanto miriamo questa bellissima natura incontaminata qui ci sono le piscine c'è un po di musica quel posto è molto bello adesso vediamo la bellezza di questo paesaggio facciamo il giro anche in bagno che mi scappa guardate la bellezza di questa piscina bellissimo paesaggio guardate che bello guardate ci sono tre piscine la piscina più grande mi sembra che la parte iniziale profonda 44 metri più o meno e la e poi sono metà piscina profonda e poi invece quella in mezzo è quella che vado io e quella in fondo è quella di bambini è quella piccolina che bassa e quindi un posto bellissimo adesso facciamo un altro giretto comunque saluti ad aldo saluti a luigi saluti ad alessandro saluti a dimitrios facciamoci un bel giretto da qua e invece qui dietro alla siepe ci sono ci sono le carceri praticamente c'è tutto tutto un altro mondo mamma mia veramente pazzesco cioè appena giri dietro alla siepe qua c'è il sulle carceri vabbè adesso ritorno alla base ciao ciao a tutti saluti a luigi saluti a tutti ce l'ho un po velato non è il massimo ciao ciao